ciao le leonardis una serissima come bene bene si vede che sei preso dalla cosa post prandiale a parte di sei vestito da zelensky se si volevo volevo ripetere quel mio atlantismo metteva anche la maglietta militare potevamo fare questa cosa ci potevi mettere un bel simbolo nazionalista e così veniva fuori sale polemiche dei rossobruni su zelensky che se ne è venuto con i simboli fascisti nazisti si inventano qualunque non riesca roger waters è stato criticato visto bene roger waters è completamente rincognito da un po ma posso dirlo con grande dirlo con grande sanità perché a me che non sono mai piaciuti è un valore oggettivo cioè mandaloriano dietro di te mandaloriano che ti guarda malissimo l'uoli pasqua la più bella pasqua forse con din jarin bella bella stagione anche la terza è stata un po sconfusionata secondo me però non sono d'accordo a me è piaciuta come mi sta piacendo anche ted lasso che tu mi hai anticipato che fosse noiosa la terza invece mi è piaciuta sicuramente in figura delle precedenti due ted lasso è una delle mie serie preferite adorabile qualcosa che io guardo ogni episodio tre quattro volte l'ho visto sì ma la prossima è l'ultima della serie quindi sono già l'ultimo pianto un sacco mi dispiace che finisca però perché una serie è bella la cosa che mi piace ted lasso è che ti aspetti sempre che i personaggi a un certo punto facciano schifo in qualche modo ma non fa mai schifo nessuno perché è una serie che vuole chi vuole credere nel fatto che gli esseri umani siano persone decenti e quindi una serie fantasy di fatto e a me piace perché mi piace il fatto la mia preferenza la mia preferenza per roi kent come bellissima personale sono tutti più o meno riusciti personaggi e roi kent uno dei migliori in effetti stupendo roi kent è meraviglioso la consigliamo a tutti gli ascoltatori è una serie che è una serie che potremmo definire l'anti shit parade perché noi parliamo del peggio e loro invece vogliono puntare sul meglio dell'umanità è una cosa che trovo trovo bella che trovo bella l'anti la risposta americana shit parade sai che c'è questa una produzione americano britannica molti attori la produzione in parte in parte britannica molti attori sono vabbè ha inventato l'ambiente dell'inghilterra regno unito molti attori sono attori britannici e si vede che c'è anche sepponella tu l'hai riconosciuta sepponella no presidente del club ah sì becca io non l'ho riconosciuto dove stava lei tra l'altro sepponella quella lì cattivissima del trono di spade mi spoglieva a fare la volta scema che c'è sì che l'annister sono esattamente che poi viene punita viene lasciata nelle mani di di non di di a un del fratello di di a un come si chiama la montagna che la devasta ovviamente non vogliamo sapere cosa è successo che non ce lo fanno vedere quindi non sappiamo niente vabbè abbiamo anche spoilerato e allora poveri non c'è oggi era un one time ospitato quanta e non avremo altri ospiti nei prossimi giorni da non ci mandano a fanculo cosa per cui non si capirei anche se lo facessero quindi vediamo avremo ospiti importantissimi anthony hawkins pare che voglia di tornare ovviamente perché è stato un momento è stato un contributo molto importante il suo salutiamo la ringraziamo ancora sperando che non si sia vergognata della nostra perante non averla fatta vergognare ma non penso è probabile molto probabile allora oggi per noi se parliamo delle italiane in finale delle coppe europee giusto avevamo deciso di parlare di questo ma più parli di cui di cosa tu stia dicendo cosa sono quali coppie europee cosa sono le coppie europee quali italiane che noia femminile che non lo segue nessuno cioè che cos'è non sai niente non sai niente basta che qualcosa contro il capitalismo e tu sei contento non ho detto una cosa agghiacciante spero che nessuno non vedo seriamente beh quello è già difficile no invece invece vabbè a parte che insomma prossimi giorni sapremo i nuovi sindaci di tante città italiane che sono insomma le comunità sono al voto e commenteremo ma sono state le amministrative tipo un mese fa sono stati due settimane fa e oggi ci sono i ball oggi insomma in questi giorni oggi è domenica registriamo la domenica possiamo dire ci sono i ballottaggi ti ricordi i ballottaggi che vogliono togliere anche sì sì questo governo che si sta occupando di tutti noi vabbè comunque notizia della settimana che poi non è una settimana perché abbiamo siamo passati appena tre giorni l'ultima volta ci siamo visti più o meno e cosa ti ha colpito questa settimana sentiamo sentiamo la ferragni che si fa le foto di scinta che poi l'undicenne le va a dire che non si deve fare foto di scinta no quella del corsivo che dice vergogni se guadagnate 1.300 euro al mese è solamente colpa vostra è ragione è ragione ha ragione esattamente nel momento in cui un'azienda tutta l'antipatia possibile per qualunque forma di influencing non nonostante i lavori ma non è che devo nascondere le mie opinioni per motivi professionali non me ne può fregare di meno esatto potrebbe calenda direbbe calenda perché mi ho noto dopo perché romano non prendere politico di si va bene ma perché il romano solo per quei anni dall'altro scoperto via calenda siamo con i tagli abbiamo no calenda e 73 del 73 che più vecchio di me è già ma è nato che ci arriva non so la mamma c'era 15 anni 16 anni 17 anni ok anche lui ha avuto una figlia in torna di giambi e se sì 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 era giovanissimo sì e sa che la figlia che sa che la mamma la mamma di comencini bravissimo comencini esatto figlia di comencini regista sorella di comencini regista sì sì lo sappiamo da dove come va beh adesso non facciamo la solita cosa io mi dissocio anche politica se non c'è la famiglia ma lascia stare ma non c'entra niente ciao carlo non è vero non è vero niente quello che sto dicendo mi dispiace devi dire carlè ciao carlè è stato un momento non c'è veramente ridotto quello che ho detto poi se ne vuoi parlare sul ring volentieri stavo dicendo qualcosa contro il capitalismo tanto per divertire la nostra pubblico questo rinnovato hating nei confronti delle non so non soltanto la maestra di corsi da professoressa di corsi maestro mi ricordo come si chiama come si chiama l'elisa esposito sì qualcosa non ho mai memorizzato io anche dove fai un defrag per contenere anche queste informazioni ma non c'è a fare questo dobbiamo parlare anche di questo è l'esposito me la ricordo vagamente per la questione corsiva è stato molto simpatico a suo tempo però è anche vero che se una influencer o una creator di only fans si sono cose simpatiche se una creator di fans guadagna 20 mila euro al mese e tu da mille due operaio specializzato da mille due che meriteresti molto di più invece di incazzarti con la influenza incazzati con i padroni che ti pagano un cazzo nonostante tu meriti molto di più perché un'azienda perché un'azienda che fa miliardi miliardi e paga decine di milioni di decine di migliaia di euro al mese per gli influencer che gli fanno pubblicità e poi il lavoro di effettivamente produce il loro valore lo pagano un decimo fatevi due domande io ho smesso di sentire ho smesso di ascoltare come ha detto i padroni e un creator di only fans può guadagnare così tanto significa che c'è un problemino nei salari nei compensi non nel sistema di only fans ok detto questo non voglio noi siamo anche su only fans l'hai detto questo no ancora no ancora no però penso che potremmo andare su qualche piattaforma pagamento penso qualcuno potrebbe anche darci due tre euro la puntata su only fans troppo troppo su only fans c'è la possibilità non solamente di spogliarsi ma anche di parlare no non li fa nasce come piattaforma per la condivisione a pagamento di contenuti esclusivi di qualunque il momento in cui è stata utilizzata principalmente per vendere soft porno o porno è quello che rende di più ragazzi e soprattutto quello che possono fare tutti basta nascere quindi però in realtà è una piattaforma che nasce anche per condividere altre cose questi sono equivoci che si sono che esistono a tempo su internet ricordo la rete torrent quella famosa perché si scarica in pirata non nacque per quello nacque per condividere in maniera efficace per tutti il peer to peer in generale nacque per condividere in maniera semplificata tutte le tecnologie open source le prime iso di linux quelle con cui masterizzavi ubuntu e te lo installavi come sistema operativo alternativo si distribuiva vabbè non perché c'è vabbè sono cose sono cose di noi che abbiamo creato il mondo i tenici sono cose di noi addetti ai lavori le prime di istro di linux si andavano su rete torrent perché perché era più facile da condividere che succedeva invece di avere un server centralizzato che costa soldi perché deve essere manutenuto e mantenuto si crea una rete diffusa in cui gli utenti mettevano a disposizione il loro computer come se fossero dei punti di download questo era il peer to peer quello nasce per distribuire tecnologie open source in maniera agevole poi qualcuno ha iniziato a distribuirci materiale piratato è diventato famoso per essere facile da distribuire materiale piratato su queste piattaforme e sono stati utilizzati principalmente per quello ma si trova ancora un botto di roba legittima legale sulle reti sulle reti peer to peer problema che è completamente oscurata dalla quantità di materiale illegale quindi ogni fans a questo equivoco nasce una piattaforma per condividere qualunque materiale a pagamento anche i podcast anche i videocast anche i youtuber avevano la possibilità di andare su ogni fans e mettere i loro contenuti a pagamento corsi ok video corsi il problema è che ormai è diventato sinonimo di fotografia nessuno fa più quindi si utilizzano altre piattaforme simili tipo patreon che si può utilizzare per condividere contenuti di questo tipo che è custom che non si vedono tette su questo è un piccolo preambolo su come funzionano queste piattaforme ma se queste piattaforme possono permettere a una ragazza vagamente guardabile di guadagnare tutti quei soldi semplicemente vendendo foto dei suoi piedi allora non c'è qualcosa che non va nella piattaforma in lei e c'è qualcosa che non va in chi vi paga lo stipendio fidatevi chiedete di più perché valete di più scusa parentesi puoi metterti come sotto pancia ti puoi mettere addetto ai livori sotto sto dicendo di chiedere non sto dicendo di mangiare i ricchi no 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 ha detto ai livori per piacere però sto dicendo che forse si potrebbe avere un dialogo tra classi sociali un attimino più concentrato su chi è il problema reale che non sono le influencer o le creator di OnlyFans è un altro il problema svegliatevi un po' vabbè quindi questo ha detto se guadagnate miliardi non l'ho visto perché non ero troppo impegnato un'uscita particolarmente infelice ma che le vuoi dire non è colpa loro se guadagnano 1300 euro al mese la settimana scorsa ci fu un altro episodio del genere della fidanzata di Damiano Soleri quello che si chiami che ha fatto un posto nel quale diceva questa è la faccia di una che ha sbagliato volo eccetera eccetera che ha perso il biglietto bla 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 e si è beccata una salva di una salva di insulti perché ma se ma per cortesia la Soleri è un discorso differente la Soleri non la sopporto neanche io non la sopporta nessuno però non ne starò più a parlare male perché non ci interessa siamo due vecchi maschi bianchi etero che si mettono a fare la paternale no però per dire la Soleri è diversa da un personaggio la esposita è genuina nel senso che quello che è è vende foto la Soleri vuole fare l'artista l'intellettuale io ho letto parte parte del suo libro di poesie mi è stato fatto leggere ha fatto un libro di poesie poesie proprio beh vabbè non lo sapevo io poesie e l'è stato pubblicato non mi ricordo da chi non mi interessa in un panorama editoriale che è completamente come dire non pubblica il mercato per le poesie non esiste nessuno pubblica più libri di poesie no pizzi poesie perché perché è un certo tipo di visibilità dovuto a determinate cause allora lì si viene a creare un po di cioè ci sono tanti poeti bravi che non vengono anche internazionali che non vengono tradotti perché non c'è mercato per la poesia in italia e viene pubblicato il libro di poesie di giorgio soleri giovan tipo stai parlando di giovan un poeta sì è allo stesso livello di giovan è allo stesso livello di giovan forse anche peggio forse anche peggio possibile quindi sì perché giovan è completamente vuoto giovan dice banalità ghiaccianti lei ha anche dei messaggi molto dall'idea di non avere un contatto con la realtà così evidente ci sono anche dei messaggi anche fastidiosi che si parla anche di suicidio di queste cose qui sono trattati in maniera molto molto superficiale e in un contesto dove la malattia mentale finalmente la stiamo iniziando a trattare come dovrebbe essere cioè qualcosa da affrontare in maniera razionale non stigma ci sono dei pezzi suoi che in cui dice delle cose che sembrano frutto di quel tipo di cultura lì cioè ai vent'anni non puoi scrivere cose che scriverebbe un sessantenne c'è un problema però ora non lo saremo a decostruire qui diciamo che sono personaggi sono personaggi diversi la soleri la esposito ha nel loro ruolo e dal mio punto di vista odio nel loro confronto non riesco a fare va bene non sono loro il problema non sono la mia mente del problema è il sistema che è un po il sistema perché nel momento in cui marketing editoriale dice oh abbiamo il libro tutte le immagini quelli della casa editrice che fanno il marketing e decidono di pubblicare sto libro che si sono detti che è brava no abbiamo le poesie della ragazza di Damiano dei Maneskin io non l'avrei mai fatta una cosa del genere proprio eticamente sarei possibile per me per fare un ragionamento del genere non lo farei mai manco se ci fosse una barca di soldi di mezza no dai è terribile io ho capito ma non stiamo parlando queste persone che ti dicono questa frase me la immagino terrificante però vabbè ma abbiamo visto libri scritti da chiunque scritti insomma i libri pubblicati sotto il nome di chiunque quelli che magari avevano avuto un'esperienza che ne so particolarmente celebrata dalla stampa dal televisione personaggi televisivi che scrivono libri o comunque firmavano libri scritti da altri perché è il momento loro cioè se vai in qualsiasi iberia vedi che c'è un intero settore dedicato a tutti questi fenomeni qualunque personaggio famoso ha scritto un libro anzi non lo scrive lui lo scrive il ghostwriter è anche una cosa positiva perché si deve lavorare un sacco di gente che sa scrivere e fare il ghostwriter quindi si crea anche lavoro però se vogliamo proprio parla del valore del valore culturale è anche vero che come dicevo non sono le soleri il problema minimamente giorgia si chiama giorgia si godi della vita ti auguro tutta la fortuna del mondo viaggia bocca al lupo diventa miliardaria continua ad essere felice il problema nel sistema del marketing editoriale pubblica chiunque basta che sia già famoso quindi sì poi ci sono le caratteristiche seguono la mia bolla come imparato a dire da te ci sono c'è un paio di case editrici che pubblicano un sacco di cose e devo dire che insomma adesso c'era parlare cosa il festival abbiamo parlato in settimana con la covelli c'era il salone del libro a torino dicevano tutte queste case editrici che sono piccole ma comunque del libro di una di una ministra è un'autrice ha un valore letterario no è propaganda no ma scusa abbiamo visto anche qualche mese fa dopo l'esperienza abbiamo visto pure il libro di di maglio che si sente uno statista cioè comunque sta roba qui poi magari va a pubblicare pure con mondatori questa roba qui è tutta propaganda inutile che si fa la presentazione passerelle cose eccetera ma anche John Waters John Waters il regista di culto ha fatto roba molto importante pink flamingos e cose di questo tipo diceva girava un suo video che diceva prima di andare a letto con qualcuno andateci a casa insieme se non è neanche un libro in casa non andateci a letto questo video che questa è una cosa che qualche anno fa era provocatoria all'instagram che dicevo non scoparle persone ignoranti no sto vedendo i libri che c'ho qua che potrebbero essere abbastanza terrorizzanti c'ho un libri adesso quella frase non ha più valore perché la gente dice no io leggo un libro all'anno sì ma se leggi fabio colo palo coelio meglio se non leggi eh guardate una bella serie tv paolo coelio è quello dell'archivista ma ma vende un sapere non c'è una non so se parli male di coelio è come una così insomma sì ma se ci metto una settimana mi si abbassa il quotiente intellettivo di 15 punti ci metto una settimana a riprendere nel senso io l'ho fatto per dubbio ho lavorato tanto tanti anni in teoria ho letto merda di tutti i tipi lo fa ragazzi questo è il livello cioè di sti tempi uno può dirà c'ho la libria ma chi c'hai chi c'hai c'hai il libro di giuliano de negramaro c'è la gamberale c'è le cronache del mondo emerso il fantasy italiano di licea terroisi non ci siamo una serie delle cronache del mondo emerso no forse si chiedo chiedo per amaro amaro che suggerisce di toglie cosa suggerisce di togliere susana tamaro va dove ti porta il cuore un cult degli anni novanta adesso sono mi sbaglio è vicina al governo vicino a posizioni sovraniste quindi di recente ha fatto delle dichiarazioni suggerendo di togliere alcuni autori troppo novi così dalle scuole penso che si riferisse a manzoni cose di questo tipo riesci sì è legittimo parlo dire ok alcuni tipi autori forse non sono padeguati andrebbero trattati in maniera non non andrebbero rimosse andrebbero ridimensionati in favore di altri autori abbastanza posso 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 però non lo ad amaro sì no sì ok no voglio dire che comunque certi autori non è che sono passati sono passati è passato il metodo di insegnamento di quegli autori perché se tu quegli autori vai arrivare a leggere diciamo secondo gli occhi di adesso ti puoi rendere conto che un 100 200 300 400 anni fa scrivere delle delle cose che erano comunque insomma cioè bisogna bisogna capire come si dice attualizzare quello che viene quello che è stato detto x anni decenni fa perché comunque così puoi capire se lo inserisci in quel contesto lì senza diciamo così solamente le imparare a memoria quel ramo del lago di como eccetera cioè non è ovvio che sono noiosissimi come la solita discussione che si apre ogni tanto sull'insegnamento del latino e del greco nelle scuole chi lo usa più a che serve sì sono accordissimo nel senso che 500 anni fa 400 anni fa in alcuni ambienti specialmente quelli scientifici a parte quello che naturalmente clericale si parlava latino cioè poi c'è stato il periodo del settecento dove si parlava in tutta l'Europa solo francese poi c'è stato il periodo che è cominciato circa beh sono forse questo secolo secolo scorso perché diventa tutti parlano parlano tutti insomma l'inglese e la lingua mondiale però una volta si parlava ci si confrontava in latino che visto adesso fa abbastanza impressione insomma è ovvio che bisogna bisogna avere un approccio critico nei confronti letteratura ci sono tantissime cose adesso non vogliamo non vogliamo stuzzicare troppo la sensibilità dei conservatori nel senso il caso di Roald Dahl delle edizioni edulcorate di in realtà a me non interessa neanche quello perché hanno una forma di marketing e teoria pure quello lì nel senso che ok è vero perché però i testi i testi passati vanno letti con occhio critico che tu adesso la vita di Nabokov è un capolavoro si vale scusa quale è un capolavoro sì Nabokov scrive addio sì sì se non hai mai letto Nabokov devi stare zitto non puoi parlare di letteratura stop fine non è che si può discutere di questo però è anche vero che il libro contiene gli stereotipi che sono raccapriccianti è una metafora del suo rapporto con gli stati uniti cioè il suo rapporto della vecchia europa che con l'olita è una metafora della nuova cultura statunitense e lui la vecchia europa che se ne innamora che è quello che è successo realmente nel novecento giusto correggimi se dico no 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 io ascolto una serie di una serie di stereotipi che sono dei devasti sulle donne dice delle cose mostruose mostruose allora è chiaro che lo devi leggere problematizzando non è che non lo devi leggere devi leggerlo perché va a letto ma devi capire che è un uomo che parla appunto di vista maschile conservatore europeo nei confronti alla nuova cultura con tutti gli stereotipi e pregiudizi del caso e le donne nel suo nel suo libro diventano il una metafora delle nuove culture che lui sta di cui si sta innamorando però con pergiudizio va affrontato in maniera problematica e questo non c'entra niente col politicamente corretto invece sì perché in america c'è un progetto che si chiama disrupt books disrupt books che non vuol dire distruggere vuol dire rivedere rianalizzare ok togliere dall'omologazione chiaramente in italiano non hanno saputo tradurre e dicono e pensano che sia un progetto per distruggire libri perché noi siamo quello che siamo che parla appunto del dell'affrontare la letteratura classica in maniera critica leggerli però con la consapevolezza del fatto che sono stati letti quattro ci sono stati scritti più di cento anni fa alcuni anche diversi centinaia di anni fa nel caso dell'epopea delle dell'epica greca che loro non vogliono rifiutare sia stato scritto sui giorni italiani che c'era un'università che voleva togliere omero dal che voleva togliere omero dalle dai programmi non era vero volevano spostare omero da un programma cioè letteratura classica a un programma di letteratura critica cose diverse ovviamente come è passata notizia qui vogliono la cancer culture volete volete colpire la l'epica greca comunque la parte di nabokov è una cosa che io di cui sto parlando da un punto di vista femminile perché me le ha fatte notare federica la mia compagna e queste cose quindi non sto facendo un ragionamento da maschio bianco cobaia da maschio bianco sto riportando un'opinione femminile sulla questione nabokov ok adesso per dire il discorso interessante mi viene in mente il disclaimer prima di via col vento sì quello ad esempio anche anche prima dei vecchi film disney che sono pieni di stereotipi di stereotipi razziali il film tutto lo puoi vedere però anche giusto con ragazzi questi tempi che dove la società è sempre più multiettina quindi non puoi andare in giro pensando che i cinesi abbiano tutti quell'aspetto lì e parli tutti in quel modo lì ti ricorderai ti ricorderai a parte nel 66 vabbè sulu no che faceva insomma che era l'asiatico del coso asiatico di star trek ma poi nel secondo mi cosa nel secondo james bonner primo c'era dottor no che era quello che invece con occidentale a cui avevano fatto il trucco per farlo sembra asiatico sì è abbastanza agghiacciante perché non parlato anche un articolo su dp interlanda c'è un film con john wayne in cui faceva gengis khan truccato da orientale un film che se lo guardi adesso ma in realtà è sempre stata una baracconata se lo guardi adesso è ancora peggio anche i primi klingon non so se ti ricordi i primi klingon di star trek avevano sembianza avevano diciamo l'estaglio degli occhi che è asiatico sì perché volevano ricordare l'impero cioè erano ispirati all'impero mongo e quindi erano per naturi bianchi in blackface fondamentalmente il problema è che star trek con queste cose ci ha fatti i conti le ha problematizzate e le ha risolte non è un caso che il fandom di star trek sia l'unico fandom non tossico in circolazione se dove di fare i fandom quelli marvel dc star wars sono una banda di invasati insopportabili stati quelli di tre keys no tre keys no è una cosa che ha chiaramente a che fare col modo in cui il medium si è evoluto cioè star trek è una serie che si è sempre auto problematizzata e dove c'era da risolvere ha risolto in tempi non sospetti vengono di essere stereotipati già dagli anni 90 con next generation erano sempre impero guerriero queste cose qua ma non erano più le caricature no c'è gli orientali il nostro tempo il nostro tempo si fa risolvendo questo proposito che a febbraio c'è la crociera di star trek che parte da port canaveral in florida che è vicino a cape canaveral dove si lanciavano una volta diciamo le cose spaziali nello spazio ed è interessante una settimana si va in giro c'è tutto un tremperco un itinerario si va da ruba poi ad altre isole eccetera e sulla durante la nave sulla nave durante queste due settimane una settimana ci sono eventi ogni minuto quindi vengono anche i protagonisti delle serie più recenti qualcuno delle serie più vecchie insomma è molto interessante sai tutte queste cose a specie di parco questa nave a tema con tutti questi che vengono vestiti da cosplay queste ragazzotte belle un po parlando di queste cose qui sono stato sabato al concerto di manuel casto che esperienza meravigliosa che era incluso nella fiera del fumetto di bari levante fuori che c'era tutto c'era tutto cosa mancava star trek non è possibile la cultura nerd moderna ha dei grossi problemi però diciamo sempre e con questo noi ci salutiamo perché il nostro tempo di questa edizione nuova di questa nuova edizione format eccetera e siamo severissimi neanche ci fosse il capo struttura rai degli anni 80 che ci ci toglie la voce e l'audio e la camera e noi ci vediamo in settimana rimane sempre per citare manuel casto a fine concerto citando a sua volta maria ma anna maria franzoni ha detto facciamone presto un altro così si è concluso il concerto ha detto e se sei veramente una persona per tu e lui siete persone il mio il mio vate vabbè allora saluti a tutti a questo punto lunga vita e prosperità e buona buon inizio di settimana ai nostri ascoltatori ci vediamo tra qualche giorno